Tori rompono via, Mamesa, diverse patte preoccupate tra i meccanici al pit top! Littenberg è nei guai, non può mangiare qualche problema! Cristo! Merda! No, no! Oh no, c'è stato un infatto violento! E Callan resta saldamente al primo posto, con il gruppo alle sue spalle! Mi prendi in giro? Speriamo che in gara non ci siano incidenti! E Callan è a comando, un regnità alle costole può succedere di tutto! Il gruppo di testa lotta per la prima posizione! Prime auto sfrezzano al secondo posto! Littenberg è fuori dai giochi, il trio è senza lotta per la prima posizione! È in gara quella di oggi! Abbiamo visto filotti pazzeschi! Sperta! Sare questo il modio o qualcun altro troverà il proprio momento di gloria! Sperta! Sperta! Tommi angelo prende il comando! Tommi angelo prende il comando! Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Manca poco alla fine della corsa. Sailor, enter per Angelo. È una lotta serrata, ma c'è ancora tempo. Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. La corsa è tutt'altro che finita. Angelo è ancora in testa. Riuscirà a arrestarci? Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Ciao Tom, ecco qui il nostro campione Ehi Tom, volevo ringraziarti Per quello che hai fatto Avevo scommesso l'affitto di sei mesi Sarei per strada se non fosse per te Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto Bene, in qualche modo dovrò sdebitarmi Quando riesci, passa dal garage Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana Va bene, grazie Sapevo che non ci avresti deluso Ci hai fatto fare un sacco di soldi E Morello raccoglierà le briciole per azione settimane E dov'è l'europeo? Starai indossando un paio di scarpe di cemento Tieni, sei meritato ogni centesimo Porta fuori la tua ragazza Grazie capo Bevete ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un po' di merito La corsa è stata grandiosa, eh? Salute? No, no, però regalerò a mia madre un cappotto È bravo ragazzo Adesso va a farti un drink Le mie congratulazioni, campione È stata solo fortuna Ah sì? Avevo scommesso sull'altro pilota Quindi devi offrire tu Ecco Ora sei pronto per le fotografie Grazie Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli È così sbronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata Sì, ok Lo riporto a casa, sono in salvo